Voglio entrare Le regole sono semplici Una volta entrati Non si esce più Buonasera, benvenuti alla TG4 Stiamo cercando di stabilire Che cosa effettivamente sta accadendo La situazione è nuovamente confusa I peloti americani hanno l'ordine di neutralizzare Prezioso! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Si poteva pensare ad una tregua Che però non c'è stata Spegni tutto Cosa dire in bocca al lupo per voi e per la gente È uno spettacolo di adrenalina Scala alla cima del suono È uno spettacolo di adrenalina Scala alla cima del suono Giorgio prezioso ma buono Giorgio prezioso ma buono È uno spettacolo di adrenalina Scala alla cima del suono Giorgio prezioso ma buono Giorgio prezioso ma buono